ciao ragazzi video abbastanza veloce perché ovviamente oggi abbiamo già speso parole e lacrime nella serata di ieri quindi oggi facciamo un semplice recap finale pomeridiano di quella che è stata la giornata di ieri perché ieri non ho voluto parlarne ovviamente nel pre nel post partita per non mancare anche di rispetto a chiellini di bala e mi viene da dire probabilmente anche alvaro morata per come si è comportato per quello che ha scritto e secondo me anche tanti altri come bernardeschi alexandro artur potrebbe essere l'ultima pure di rabbio non lo so potrebbe essere stata l'ultima serata di tanti calciatori e proprio per questo mi sposto provo a prendere l'attenzione dal momento dei saluti e che abbiamo veramente vissuto con tutti noi stessi per andare a proiettarci su quella che sarà la juve del futuro perché non dimentichiamoci che ieri appunto c'è stato un incontro importante tra juventus ed entourage di paul pogba ieri sera arriva bene ha detto non ci siamo incontrati per pogba ci siamo incontrati per parlare di altri giocatori come pellegrini bla 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 non credete la juventus è interessata a pogba la juventus ha fatto un'offerta a pogba 7 milioni e mezzo di euro più bonus per tre anni pogba ne vorrebbe 11 questo è quello che ci ha riferito romeo agresti e altri giornalisti impegnati lato mercato ora sono contento dei tre anni io addirittura avevo parlato di due più possibilità per un terzo è ovvio che la juventus vada a fare un'offerta quanto più logica possibile perché pogba poi la deve anche accettare quindi se li fai due probabilmente non la prende nemmeno in considerazione proprio per il discorso legato ai problemi fisici io non voglio andare a creare un contratto lungo nei confronti di pogba proprio per questa motivazione qui è vero che ancora relativamente giovane anzi più che relativamente giovane non è proprio decisamente vecchio che sono due cose diverse classe 93 l'anno prossimo andrà a compiere 30 anni quindi stiamo parlando di un giocatore che andrebbe a scadenza a 32 anni poi lì si può decidere di provare un rinnovo di cederlo prima a qualche soldo o come si usa fare ultimamente farlo andare via a parametro zero quindi forse tre anni è la durata perfetta del contratto di pogba la mia linea è chiara semplice io la metto su questo binario e cioè paul penso proprio che tu abbia tanti soldi ma veramente tanti soldi penso che i soldi non saranno mai un problema per pogba per la parole di pogba un discorso un po populista e che quindi dagli 11 ai 7 mezzo più bonus è vero che stiamo parlando di milioni di euro di mezzo ma penso che comunque la juventus possa arrivare a coprire quell'eventuale mancanza economica con l'affetto nei confronti di pogba è con quello che abbiamo dimostrato ieri sera per quello che riusciamo a far vedere noi tifosi nei confronti dei calciatori che decidono di legare la loro carriera ai nostri colori e di mettersi in gioco con i nostri colori quindi caro paul se proprio devo fare un pensiero davvero populista faccio questo per una volta scegli il cuore scegli dove sei stato bene dove sei diventato forte grande bravo non ricommettere lo stesso errore di scegliere i soldi di fronte alla carriera non scegliere i petrol dollari di fronte ai nostri soldi e sappi che non a tutti andiamo a garantire certe cifre offrire certe cifre non siamo ricchissimi in questo momento storico stiamo cercando di fare a spot giocatori che secondo noi in questo momento possono darci qualcosa in più e tu sei uno di quelli speciali saresti uno dei più pagati della rosa quindi paul per favore accetta la nostra offerta torna a casa e torna a essere leader indiscusso del nostro centrocampo ci servi abbiamo bisogno di te abbiamo sognato per tanto tempo il tuo ritorno e ora che abbiamo fatto il passo in avanti decisivo lato juventus ti prego scegli la juve scegli torino scegli il bianconero torna a casa con quella maglia che abbiamo usato ieri sera staresti poi benissimo quindi anche su questa cosa io ci ragionerei un attimino lato di maria invece juventus di maria sempre più vicini anche qua dovrebbe essere un'offerta intorno ai 7 milioni di euro quindi quasi il tetto massimo autoimposto da juventus anche se non c'è un tetto massimo ufficiale un anno di contratto eventualmente un'opzione per il secondo perché qua parliamo un giocatore decisamente più vecchio rispetto a paul pogba e quindi vediamo che cosa succede di maria potrebbe davvero essere il primo colpo della juventus io mi aspetto anche un annuncio nelle prossimissime ore perché la juve sembra la squadra più interessata di maria e di maria sembra essere attratto maggiormente dalla juve rispetto ad altre offerte che ha sul tavolo quindi potrebbe essere il vero e proprio sostituto di dibala per una stagione e nel frattempo far crescere soul e sotto la sua ala di questo abbiamo già parlato sarebbe veramente fantastico vedere un discorso di questo tipo mi farebbe veramente molto piacere e in terza battuta la juventus avrebbe addirittura bloccato perisic dell'inter è un nome che avevo già fatto qualche giorno fa ora sembra un po più insistente gazzetta stamattina titola bloccato proprio perisic bloccato di maria pogba sondati già chiacchierato la juventus addirittura si mormora abbia già iniziato una trattativa ufficiale con l'entourage di perisic si parla di due o tre anni di contratto anche questi sui 6 7 milioni di euro a stagione ecco perisic è un po più vecchio di pogba classe 89 quindi quattro anni di più qua bisognerebbe ragionare un po sulla durata e sui costi sono sincero a me perisic piace tanto è un giocatore che piace veramente un sacco aggiungo una cosa ricordiamoci che federico chiesa non sarà pieno regime da inizio campionato non sappiamo nemmeno come tornerà dall'infortunio quindi immaginarsi a sinistra la possibilità di schierare chiesa e perisic e a destra di maria e soulet con quadrado che ovviamente fa sempre la sua porca figura avreste una batteria di cinque esterni veramente di livello e quindi mi piacerebbe un sacco dall'altra parte la juventus avrebbe parlato anche per un eventuale rinnovo di contratto delito fino a 2026 e questo dovrebbe essere molto vicino quindi altri anni di contratto per delito la juve con ovviamente andare a toccare a clausola recessoria non sappiamo se al ribasso al rialzo attendiamo il comunicato ufficiale però il rinnovo di delito mi fa piacere perché è veramente un caposaldo della difesa della juve in generale uno di quei giocatori a cui ci dobbiamo aggrappare e davanti attenzione perché se l'idea è quella di giocare appunto con un 4 3 3 con un pogba a centrocampo davanti ieri morata appunto ha fatto capire bene o male volento e nolente che è stata la sua ultima partita a torino con la maglia della juventus e quindi potrebbe cadere qualcosa davanti addirittura qualcuno dice ieri è stata gettata alla base per il rinnovo di moise ken che poi la juve vorrebbe inserire all'interno di uno scambio col psg per arrivare a paredes ora qua forse siamo un po troppo oltre mi sembra una ricostruzione forse un po fantasiosa è anche vero che come vi dicevo l'altro giorno magari io faccio un favore a te e quindi costringo tra virgolette convinco pogba a firmare una cifra ribassata rispetto a quella che aveva in testa però dato che i panni sporchi si lavano in famiglia e in casa moise ken fa sempre parte dell'entourage di minoraiola tanto lo riscatti lo togli dall'everton e poi te lo gestisci in un altro modo perché a parigi ha lasciato un buon ricordo sarebbero contenti di riabbracciarlo non so se per paredes però è anche vero che paredes non è assolutamente un cattivo giocatore però non lo so dato che lo vai a riscattare ken ha 30 e passa quasi 40 milioni di euro puoi scambiarlo per paredes mi sembra un po eccessivo ecco diciamo la verità però vediamo che cosa succede intanto la juventus si sta muovendo la juve sta cercando di costruire una squadra di primo pelo con dei titolari con caratura internazionale e cercando di avere come seconde linee dei ragazzi dei giocatori che devono crescere all'ombra di questi campioni ne parlavo anche ieri sul secondo canale su tiktok su instagram ho fatto un breve video di un minuto circa immaginandomi la juventus titolare dell'anno prossimo ed è un mix perfetto tra esperienza e gioventù è una linea che mi piace tanto vediamo dove andiamo a parare ma pensando che siamo ancora all'interno della stagione perché mancano ancora 90 minuti di firenze e la juventus rischia di aver già chiuso tre colpi a parametro a zero e che colpi devo dire la verità un po migaso poi ovvio sono profili di primissimo pelo e quindi vanno in netta contrapposizione rispetto a quella che è stata l'idea della juve delle ultime stagioni è ovvio che non mi voglio limitare a queste cose qua a questi tre colpi qua è ovvio che voglio anche degli ingressi freschi per andare a coprire dei ruoli nei quali siamo scoperti e per coprire delle partenze che secondo me in questa stagione quest'estate saranno tante volte di più rispetto alle due dichiarate soltanto ieri sera fatemi sapere che cosa ne pensate di questi acquisti fatemi sapere se siete favorevoli all'arrivo di pogba di maria e perisic di maria molto vicino pogba potrebbe essere perisic forse quello un pelo più indietro ma potrebbe entrare nel ligo anche questa è bello smacco all'inter con perisic alla juve grazie